musica 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 oh vedi chi hai? musica 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 oh aspetta musica musica aspetta musica che hai? che ti senti? ma che ha il tuo fratello? devo evitare è male allo stupro non ti manca l'aria alzati dai aspetta tagli questo che gli passo non ci faccio con questo ma che ha il tuo fratello? che è malato? ma che ha il tuo fratello? dai respira 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 forse adesso prendiamo il treno partiamo e finisce tutto il treno gli fa male si deve riposare deve dormire ma il magnaio ma glielo avete detto ma me le voglio dire le cose ma che faccio? non ci vuoi non ci vuoi ma che ha il più non ci vuoi non ci vuoi Grazie a tutti.